Apprezzamenti verbali più o meno espliciti, attenzioni indesiderate, atti di esibizionismo, pedinamenti, telefonate o scene, ricatti. È ampia la casistica delle molestie sessuali, cui autori sono nel 97% dei casi uomini e ampio è il numero delle vittime. Secondo un'indagine dell'Istat realizzata tra il 2015 e il 2016, una donna su due è stata molestata o ha ricevuto ricatti sessuali sul lavoro almeno una volta nella propria vita. Un numero che corrisponde a circa il 52,3% della popolazione femminile emiliano-romagnola tra i 14 e i 65 anni. Sì perché l'Emilia Romagna, terra di battaglie per l'emancipazione e i diritti femminili, è sul podio delle regioni nelle quali le donne denunciano di più e quindi risultano maggiormente colpite. Terzo posto per l'esattezza dopo Lazio e Toscana. A livello nazionale l'Istat stima siano 8.816.000 le adolescenti e le donne che hanno subito almeno un episodio di molestia. Per strada, in autobus, in ascensore, in fila al supermercato e al lavoro dove i ricatti sessuali, quelli ad esempio che promettono o intimano alla donna di dover fare o subire sesso parziale o totale, per avere un avanzamento di carriera o per poter mantenere il posto, e le molestie fisiche, ovvero i tentativi di colleghi di toccare, accarezzare o baciare contro la volontà della donna, mettono l'Emilia Romagna al quinto posto nella classifica nazionale. Il 9,7% delle donne tra i 15 e i 65 anni ha dovuto subire episodi simili contro una media italiana dell'8,9%. Le più colpite sono le lavoratrici laureate tra i 45 e i 54 anni, ma guardando i dati degli ultimi anni, la percentuale più alta tra le giovanissime, le donne tra i 14 e i 24 anni, che rappresentano il 34% del totale.